Invece a Chiara Ferragni che mi ha potuto fare il punto sicurezza, come risponde? Non rispondo, io non condivido quello che dice, però è un'opinione, le risposte sono sempre attraverso il mio stile del lavoro. Lavoreremo ancora di più, ripeto, non condivido quello che lei dice, ma capisco che è un tema delicato, che c'è una sensibilità della città, è un periodo difficile, nel colloquio quotidiano con i sindaci delle grandi città del mondo, problematiche del genere sono l'ordine al giorno. Cercheremo di fare ancora di più, ovviamente non per responsabilizzarci, ma precisando che la sicurezza dipende molto anche dall'opera del ministero. In questi giorni risentirò il ministro Amorgese. Scusi, sulla sicurezza cercherete un confronto con l'Amorgese? Forse l'ha detto non ho sentito. Sì, ne riparlerò in questi giorni, ripeto, io non considero la situazione drammatica, ma considero la situazione degna di attenzione. Quindi ritornerò a parlare con la Amorgese, cercheremo di rifare il punto sulle forze che arriveranno a Milano. Come avete visto, noi stiamo facendo la prima parte, le prime assunzioni le abbiamo fatte e entro dicembre un altro 120 agenti saranno messi in campo. Quelle forze che arriva con la sorella Amorgese? E' questo appunto, in parte, però voglio capire quando arriveranno.